musica 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 bella a tutti ragazzi, ho salakana ci vedete un nuovo video siamo su life is strange per il quarto episodio abbiamo combinato un burdello nell'episodio precedente voglio subito iniziare perchè vuoi sapere che 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 minchia sta succedendo what the fuck ecco ah qui è il primo episodio il primo primo proprio ok ricordiamoci Kate come era agile c'è Kate Crow schifo non arrivi a me non ora non funzionerà io so che questo non è piacere per tutti qui abbiamo mandato a puttana nella vita di Natal diciamoci tutto hey Stelman e Louise questo è il braccio di Rachel perchè stai portando il braccio? calma te stesso, ok? è stato un gift si, infatti hai ragione qui ma guarda delle foto che non ho visto ma guarda delle foto che vuoi vediamo vediamo queste foto Rachel in the dark room più e più è tutto è tutto ascolti ho trovato foto di Rachel e Frank erano più di un amico non credo che è stata una amico che è stata un po' che è stato una amico che è stata una amico quindi chi voglia di affrontare? mio p***o padre è certo hello no non ok facendo questo abbiamo fatto un casino che sono non soppro sai cosa è come per aspettarti per il tuo padre per venire a casa quando sei un figlio? da quando ha morto la mia vita è stata diventata in p*** Chloe io sono ecco, siamo eccoci! dipende tante cose ma perchè se non muore è un casino sono rimasto malissimo ma il stranger è quello lì si, cambia a seconda delle scelte che facciamo ok, skip 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 vuoi iniziare, vai parti partisci 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 partisci, muoviti 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 siamo alla playa ho capito che sta ok ok square enix don't load entertainment va bene andiamo al punto non è che sono curioso ok life is strange dark room abbastanza oscura oh oh sai nel mio presente tuo padre era morto ero eri sana camminavi, correvi ti drogavi ero 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 esato veramente c'è se ero 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 è era ero senza tu qui non ho capito che puoi prendere alcuni scopi ecco quelli che sono molto triste sai come si sentono almeno sono vivi qui con te sei un vero survivor Chloe sai che devi affrontare con te paz non voglio nessuno sentire a me scoprire per me e posso farlo con i miei bambini mio padre ancora senta guilty ah ecco appunto vediamo ancora qui William oh mio dio diamogli la stessa risposta di prima tu non ti scopri William tu? mi scopri il hybrid che volevo per la mia sweet 16 no la colpa è quella che mi ha tagliato la stella facciandomi finire ho visto tutto ho visto la schiena a scrocchiare è stata l'ultima cosa che avevo ah è una foto di quel momento posso cambiare il tuo passato ho visto che ho visto la mia storia ho visto la mia storia ho visto la mia storia non ti ricordi cosa non ti ricordi cosa sono felice di divertire mi sono felice di tornare a te chi è? chi è sparito? vuol dire Rachel era con noi a volte quale ragazza? quale ragazza? non so il suo nome ho scritto sulle notizie non è Kate questo è un mondo molto diverso da quando eravamo ragazzi dopo questa snow e eclipsa è più come l'inizio del mondo tu credi? non parlare non parlare di questo adesso non parlare con questi dettagli non parlare di più non parlare di più non parlare di più da lui ma potremmo andare sembra ma innanzitutto in realtà non parlare di più non parlare parlare con te diciamo come un figlio non lo sai se chiesa Chloe, ho scoperto che non ci sono mai venuto, è stato scoperto, sei il mio migliore Sei il mio migliore Max, grazie per venire per venire Sì, sei Non mi sembrava, non mi sembrava Non mi sembrava, non mi sembrava, non mi sembrava Non mi sembrava, non mi sembrava Non mi sembrava, non mi sembrava Non mi sembrava Una cifra Una cifra A freddo Possiamo cambiare qualcosa di questo Ormai, un cambiamento più, un cambiamento meno Ok, questa qui era nella prima foto che c'era nel taser Vabbè, nel trailer dell'episodio scorso Che c'era nella Polaroid Qui c'è il faro Quindi E adesso Scriverò Sì Oggi No Sì Qui c'è Grazie a tutti o quando i doktori mi avvicinarono come ero un uomo di scienze non posso nemmeno immaginare ma sei ancora meravigliosa sei sempre stato, da quando eravamo figli oh grazie ancora per arrivare, Max e... ho bisogno di prendere il mio drink e... potresti portarmi qualche acqua? ok ovviamente prima di portarti l'acqua che si gira un po' in giro ehm vai a braceletta acqua acqua aspetta ma non ho finito di esplorarla o come è la stessa ricardi? ora mi s Attendez un cattedio da una stessa per passante? sonocano mon pòdd un cattedio interéss ilo è nemmeno non c'è il c'è il giovane ma non c'è l'acqua, io è un cattido sei l'acqua già questo è un cattico è un cos'è ricardo che ecc cosa ricardi ci ricordiamo tutti così diversi ci sono tre piccoli pirati con una frittata in giro del pelle ma a una strada siamo ancora dei pirati Chloe dei Carali col cavolo chissà che sono la scuola la fuori eterna è scavigliata da tutti gli altri no non sono super max non sono super max non sono super max Ti vogliono bene. Te amo molto. Lo so. Ma mia mamma e mio papà sono molto bello. Ci sono sempre piuttosto che ci sono piuttosto. Penso che Joyce e Liam sono incredibili. Max, l'accidenta è stato così difficile. La sicurezza è fatica. La sicurezza è assicurata. Le bambini sono assicurati. Può pagare tutte le bambini? Noi, se non so. Ma non so. Non so, sono un rischio. Mi sono messi appena, non so... ...bail. Ma non so, non so. E tu sei un ucciso. E tu sei un ucciso. E tu sei un ucciso. Io ho preso un sistema di giocatore. È una macchina. Sì, come andiamo a vedere un film che ci sono venuta per me, come un'ato a casa. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? No, non mi piaceva, come Chris. Cosa vuoi? Ok. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Non quando sei qui. Non ancora. Ah, ok. Sio, aspetta, calma, sono apparto trappi a queste tutte insieme. Cerva. Guarda. Ah, ma questa l'ho già visto prima. Sì, l'ho già visto. Sì, l'ho già visto. Cerca. Questi, ho un DVD in più. Ah, qui c'è il DVD. Qui che c'è? Oh my god. Ho fatto questo mix per lei quando eravamo 12 anni. Pirate Power. Potere Pirati. Guarda, Potere Pirati. Ehm... DVD. Passa che non mi ha più applicato a Pirate perchè guardo un filmino del cazzo, però va bene. Sì, guarda un film. Sì, guarda un film. qui in all'espresso. Ah, siamo rimasti fino al mattino dopo. No You are not I cannot believe you fell asleep so fast How dare you I know you were beat down after the day with me Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me No, I'm sorry I crashed so hard Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me You are a bitch in the morning It's the company I can Yesterday was such a blast It was great Seeing you I know things were different when I just stayed with you Game with you made me feel like when we were little pirates Jumping and running through forests again And it meant a lot to me It meant a lot to me just to chill out If you were little bullshit Fuck I'm getting my regular head pains Can you please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit You can't even see the middle Seriously, I need it My parents keep the swag upstairs Because they think I can't get to me But you can, Max You're a pirate, right? Ok 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 And... And... Andiamo Immagino che sarebbe rimasto il disegnino qua se lo dovevamo lasciare, però... No To think that our destiny is linked to god damn car keys Dutu Dutu Vittoria Eh eh Quanta roba Max è occupata bella Aiuto di studiare come al sol Te l'ho detto che ti avrei aiutato non... Mi permette a me di farlo Do TOT? Ah una facina Ok mi stiamo a post E tu mi vai a ti preoccupare quando ti prende Ci provo, comunque ho rimediato quella roba pazzesca tu sai che, se volevi saperlo, ma va in guida. Lasciamone un po', devo andare a dopo. Vieni in camera mia stanotte? Max ce l'hai con me, volevo saperlo, visto che te ne sei andata via così in fretta, anche Nathan non era preoccupato. Se vuoi parlare, chiama pure, ok? Ti voglio bene. Max, sei arrabbiato con me? Ah, sei arrabbiato, dimmelo, ok? Silenzio, se vuoi parlarne la mia porta è aperta, ti pubblico. Ok, è diventata una stalker. Ehm, Clou. Sì, ho, dimmi il mio messaggio. Ciao Max, sono William. Se vuoi contattare Clou, pausare questo numero, rifare una notificia e sentirti. Spero di vederti presto, ciao. Eccolo, sono Maxin, non so che è passato un po' di tempo, volevo solo dirti che adesso vado alla Blackwell Academy. Spero che questo sia ancora il tuo numero. Max è tornata, Blackwell è fantastico, sei grande. Ma ancora meglio, possiamo incontrarci di nuovo. Quindi sì, questo è ancora il mio numero. Figo, un sacco di compiti da fare, ma ci incontrerò presto. Non prendermi in giro, è passato troppo tempo. Lo so, ci vediamo presto. Faccina. Faccina? Lecche dicevano mettere le faccine, attenzione. Alissa. Ehi Max, è un peccato che ho passato tempo con quella gente. Pensavo che fossi diversa. Alissa, ti ho vista mentre ti mi tiravi l'apertigenica. OMD. Sarà un mio Dio, non stavo mirando a te, giuro. Non farlo mai più. Mamma. Ho troppi messaggi, mamma. Tanto è che Maxin, non riusciamo a credere che sono passati 18 anni da quando sei nata. Bacio, bacio, bacio. Maxin, sono la mamma. Dobbiamo parlare di alcune tue spese. Ci sei? Sì, dammi il tempo di rispondere. Non posso messaggiare in tutte le lezioni. Alcuni professori si arrabbiano troppo quando qualcuno usa il telefono. Sì, perché è molto da ignorare. E non fare una maleducata, per favore. Scusami, lunga giornata di compito. Non sei la sola, ed è per questo che ci stavamo chiedendo se avevi bisogno di spendere così tanto. Vogliamo che tu abbia tutto quello di cui hai bisogno, ma la tua borsa di studio non copre tutto. Hai detto che poteva usare la tua carta, ti credo quando le serviva. Solo comprato le pellicole, non una fotocamera. Forse è tempo di convertirsi al digitale. Ti chiamo dopo, devo andare. Non tenere il bronce, ti voglio bene. Ehi tesoro, spero che tu abbia dimenticato, non abbia dimenticato di fare la pianta che ti abbiamo dato. Ma non farla affogare, mamma. Ok, l'abbiamo fatto prima. Taylor. Max, ho pensato per avermi portato a visitare mia madre. Credo che voglia te come figlio al posto mio. Io non credo, tua madre spacca i culi come te. Sì, vero, ho pianto come una sfigata. Anche io, ma non mi hanno visto, fa bene i temi. Ma va un po' stufa, il mio stupido telefono sta per morire. Quindi richiamami, ok. Novità, niente. Nathan, attenzione. Yo, yo, Max, ci sei? Nella camera scura. Sviluppata foto per il concorso. Figo, quindi niente. Two walls per te? Ah, il part, in teoria. No, ancora, ci vediamo più tardi però. Bella. Ok, praticamente tutto l'inverso di come era la vita prima. Parla. Hey, William, am I bothering you? Why, yes, Max, I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. Figo. It's so cool. Good. Or I'd be as scared if I didn't look like me. Of course, you see more don't know. Muori. Chlo? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. My view. But she's alive. She's been a trooper. She la come. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed. She knows you care. And I know all I'm just a process of this. And I know all I'm just a process of this. It's taken us a years. William. I just want you to know that whatever happens. I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Joyce. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. That it gets great for Chloe to see you. It makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia, Ben. Or is it? There she is. Temple Patsit or... Temple Patsit. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit. Pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. Uh-huh. The Prescott family? The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Most. Next question. Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Panestates. I don't even like to think about it. I don't even like to think about it. I don't even like to think about it. Rachel? I was reading about that missing girl. Rachel Amber? Oh, yeah. She went to Blackwell, right? She's a little bit of a dream. It's a real nightmare for a family. But it's scary to think about Chloe and that we might lose her someday. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. You can buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but... I don't know. I don't know. I know it must be hard on you guys. Financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home and that's pretty scary. But... But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? I have to go see if Chloe means anything. I'm going to try to buy it, of course. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Attenzione a questo... Guarda. They might get their own home taken away because of medical pills. This time. It's terrible. Ok. So now we have the place of Chloe. We have the old Chloe. Can we see? It looks like they can see here. Oh, can we see? Attenzione. Chloe's door doesn't have a warning. We have the old Chloe. 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 Grazie a tutti.